Grande Fratello 2018, brutta notizia per Barbara Durso, la scelta Mediaset Brutta notizia in arrivo per Cancelletto Barbara Durso, la nuova timoniera del Cancelletto Grande Fratello 2018 che ha debuttato questo martedì sera in Prime Time su Canale 5. Il reality show, tornato in onda a distanza di tre anni dal sua ultima edizione a NIP, ha debuttato con una media di oltre 3.6 milioni di spettatori e uno share che ha raggiunto la soglia del 23 circa in Prime Time. Ecco come cambia la programmazione del Grande Fratello 2018. Un impegno decisamente importante per Barbara Durso, che in questi ultimi mesi della stagione televisiva 2018 di Canale 5, sarà divisa tra ben tre programmi. Non solo il GF 15 ma anche pomeriggio 5 e domenica live, che andranno avanti fino ai primi di giugno in rigorosa diretta. La scorsa settimana il Cancelletto Grande Fratello 2018 è andato in onda di martedì sera, ma possiamo svelarvi che da questa settimana cambierà il giorno di programmazione su Canale 5. La seconda puntata del reality show condotto da Barbara Durso, infatti, sarà trasmesso di lunedì sera, precisamente il prossimo 23 aprile in Prime Time dalle 21.35 circa. Una notizia che tuttavia potrebbe spaventare un po' la conduttrice, dato che di lunedì sera su Rai 1 andrà in onda una puntata in replica della fiction Il Commissario Montalbano. Che anche in replica continua a registrare ascolti molto importanti, con una media di oltre 6 milioni e mezzo di spettatori e picchi del 28 di share. Grande sforzo per Barbara Durso. Insomma la sfida Auditel per il GF 15 diventa decisamente più complicata e ovviamente si spera che la trasmissione possa non perdere ulteriormente ascolti rispetto al debutto di martedì scorso. Ma c'è da dire anche che l'impegno sarà decisamente più difficoltoso per la Durso, visto che domenica pomeriggio al termine delle 5 ore di diretta con Domenica Live. Dovrà mettersi subito in treno per raggiungere in tarda serata la capitale. A Cinecittà, infatti, saranno in programma le prove ufficiali della seconda puntata del Grande Fratello 15 in programma il lunedì sera su Canale 5 che terranno impegnata la conduttrice fino a notte fonda. Il lunedì mattina, poi, proseguiranno le prove in vista della diretta serale e alle 17 la Durso sarà al timone di pomeriggio 5, che tuttavia dovrebbe essere registrato ad ora di pranzo. Così da permettere alla presentatrice di dedicarsi anche nel primo pomeriggio alle prove del reality show. Un periodo decisamente intenso per la Durso che tuttavia è super contenta degli impegni presi. .